Proseguirà il 9 dicembre prossimo l'udienza davanti al TAR di Catania in cui sono contrapposti A2A Energy Future SPA e l'assessorato regionale beni culturali identità siciliana e la sovrintendenza dei beni culturali e ambientali di Messina, in contraddittorio davanti ai giudici della seconda sezione la riadozione del piano paesaggistico dell'ambito 9 ricadente nella provincia di Messina. Il ricorso di A2A Energy Future OSPAR, presentata dagli avvocati Harald Bonura e Luca Prati, è stato presentato anche nei confronti del comune di San Filippo del Mela, rappresentato dall'avvocato Giuseppe Giunta e della città metropolitana di Messina. È stato chiesto l'allullamento del decreto assessoriale del 23 ottobre 2019 con il quale l'assessorato regionale ha riadottato il piano paesaggistico dell'ambito 9 della provincia di Messina nella parte specificatamente riguardante gli impianti e l'attività della società, l'area di insistenza e quella circostante. Per il TAR è necessario che l'assessorato, entro il termine di 90 giorni, renda puntuali e documentati chiarimenti sulle specifiche valutazioni già svolte in sede di elaborazione del piano paesaggistico, sulle esigenze di tutela relative all'area in oggetto e in particolare alle aree di recupero del piano. Da qui l'ordinanza del TAR che dispone gli incombenti istruttori e il rinvio per il proseguo dell'udienza del 9 dicembre 2024.